Tu sei Lisa, vero? Sì, io mi chiamo Emily. Ti aspettavo, volevo conoscerti. Dammi retta, tornatene da dove sei venuta. Più presto che puoi. 50 anni fa, tutte le persone che erano in questo albergo, furono trovate morti. Tra quelle persone c'era un uomo, un pittore che stava per scoprire il gran segreto. Dopo quello che è successo, immagino che pensi di vendere. Già, è la decisione più plausibile. No! Ma io ho deciso di restare. Che hai portato con te? Nessuno, Emily. Sento la presenza di qualcun altro in questa stanza. Mi sono lasciata suggestionare da quella storia che mi ha raccontato Emily. Emily? Chi è Emily? Abita dopo Satin Nelboro, in quella casa coloniale. E' cieca, poverina. Mike! Lasciami in pace! Non voglio tornare da voi! Andatevene via! La casa coloniale dopo il bivio, vero? Sì. Nessuno ci abita più da 50 anni. Ma non è vera? Questa casa fu costruita su una delle sette porte del male. Solo chi ghermirà il grande segreto, lui soltanto avrà la chiave per aprire le sette porte del male. Non è vera non... Non è vera non è vera! Questa casa è la sua? Questa casa è un'altra cosa.